Allora Villa del Grumello che si apre anche alla musica Suoli e Colori nel prossimo fine settimana che ci facciamo presentare da Flavio Minardo e da Francesco Mantero che sono qui con noi quest'oggi quindi nel prossimo fine settimana dal 2 giugno, domenica prossima, anche appunto la musica che irrompe a Villa del Grumello lì dove ci sono tante cose, la domenica è ricca non solo di suoni e di colori ma di anche tante altre cose da fare buongiorno a entrambi, buongiorno a voi, allora spieghiamo quando questa rassegna inizia domenica, vero Francesco? La rassegna in realtà è già iniziata ma la prossima data è il 2 di giugno, che c'è alla sera tra l'altro attenzione perché la rassegna è al mattino, invece ci saranno due eventi serali tra cui quello del 2 giugno che sarà le 21 di sera quindi cambiate l'agenda da 11.30 del mattino al 21 per il 2 giugno Chi c'è Flavio? Ci sarà Ethos che è un percussionista giapponese, famosissimo, famosissimo per chi segue questo genere di musica vanta collaborazioni veramente internazionali ad altissimo livello per cui è senz'altro da non perdere l'impatto perché essendo percussioni poi collabora con un gruppo di lecco di percussioni giapponesi ci sarà un insieme di grosso impatto sia visivo che musica che acustico Sì assolutamente, comunque preme dire che questa data è in collaborazione con il Percomo Festival che è un festival tutto di percussioni, abbiamo incrociato la rassegna che si tiene con la direzione nostra al Grumello con quest'altro festival, una collaborazione e quindi li ringraziamo, Tal Coleco, Percomo Festival, Chiara Codetta e un po' di collaborazione Ma va detto che al Grumello insomma non manca davvero nulla, cioè veramente ecco c'è un ulteriore chic che viene ad arricchire un programma veramente bello, interessante Francesco Assolutamente, tra l'altro Leonhardetto come giustamente diceva Flavio è un personaggio internazionale di primissimo ordine quindi quest'anno abbiamo aggiunto queste, poi parliamo della seconda parte quest'anno di novità serale a differenza del solito mattino che ci sarà quest'anno e quindi sì, e tra l'altro va ringraziata devo dire l'attività frenetica di Chiara Pignami che veramente si dà anima e corpo e dei suoi collaboratori, sì devo dire che ha creato questo oasi di grande attività, questa novità della città e lì va riconosciuto assolutamente sì, è venuta a trovarci anche un paio di volte quindi la saluto e ovviamente la ringrazio. Parliamo del resto allora? Allora il resto, dunque il resto adesso, l'idea del Grumello si divide in una parte di musica classica che solitamente sono quattro incontri che coincidono con le stagioni e una parte invece di jazz che si svolge in periodo di luglio e la prima settimana di agosto. Il prossimo incontro il 30 giugno sarà musica classica, un quartetto di violoncelli che collaborano a livello anche internazionale con artisti diciamo noti, molto noti, con i Centocelli di Soliman e poi invece inizierà subito il 7 luglio un trio di veramente primissimo piano, i Rhapsodia Trio con Maurizio Deo al violino, anche loro collaborano da tantissimi anni con Monio Vadia, l'area diciamo di musica iddish, klezmer, ma una contaminazione anche col tango, col gypsy, è un trio veramente molto noto, molto 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 interessante. Poi si passerà a un duo di Simone Mauri e Francesco e Flaviano Braga alla fisarmonica, scusate. Poi c'è un quartetto di Paolo Tomelleri in cui suono anch'io e facciamo musica a Gypsy, un omaggio a Django Reynard dove Paolo Tomelleri racconterà la storia di Django Reynard e l'ultimo incontro è Alfredo Ferrario che è uno dei clarinettisti jazz più noti e più bravi, talentuosi diciamo in Italia. A proposito di agenda, sono per facilità, sono tutte le domeniche a partire dal 7 di luglio alle 11.30 il mattino questa rassegna jazz di cui parla. Quindi 2 giugno alla sera, domenica prossima, poi 7 luglio no attenzione, il giugno classico è sempre al mattino alle 11.30 e poi dal 7 luglio parte quella che è la rassegna, chiamiamola più jazzistica, che è tutte le domeniche salta solo l'ultima che passa al 4 di agosto. Cosa importantissima è tutto gratuito. Esattamente, accesso non è poco. Giusto, hai fatto bene per sottolinearlo perché in effetti ecco al Grumello, oltre ad avere un panorama bellissimo, ci sono anche tante iniziative gratuite. Questa rassegna ovviamente lo è. Ecco, già che parliamo di tutto, quest'anno stavamo così sperimentando questa idea che è nata appunto prima di tutto da Flavio e poi è stata sviluppata, di fare quella che noi chiamiamo una notte. Sarà il 19 di luglio, è ancora un po' work in progress, però sarà tema di musica indiana e partirà le 21 di sera del 19 che è un venerdì sera, il 19 luglio. La nostra intenzione è di addentrarci nella notte con, beh anche qui c'è... Dipende appunto, essendo gratuite le offerte ci dobbiamo confrontare col budget, qui a secondo dei bai, poi ne parleremo. Intanto abbiamo presentato la rassegna e come detto si entra nel vivo domenica prossima, il 2 di giugno, la festa della Repubblica, alle 21. Grazie Flavio e grazie a Francesco. Grazie mille a voi di averci ospitato.